Ciao a tutti! Allora, questo è un nuovo video e come vi ho anticipato dal vlog sarà il video su... queste due paia di scarpe. Allora, vi dico subito che queste scarpe le acquistate tutte e due da Globo per chi non avesse visto il vlog precedente. Le acquistate entrambe da Globo, tutte e due in saldo e sono delle scarpe che io cercavo da tanto, tanto, tanto tempo. Le punto praticamente da sempre solo che le mode diciamo che hanno un po' messo in disparte queste tipologie di scarpe e quindi non le ho mai trovate ad un prezzo comunque decente. Invece stavolta le ho trovate a dei prezzi, secondo me, vantaggiosissimi e quindi le ho volute acquistare, ma vi faccio subito vedere che scarpe sono! Il primo paia di scarpe è di questa marca qui che si chiama Baciata e le ho pagate da 36,90-19,90 scontate al 46% e sono questi stivaletti qui. Questi bellissimi stivaletti con il tacco, è un tacco comodissimo perché comunque è bello grosso e questi stivaletti non hanno cerniera, io li cercavo tantissimo questi stivaletti perché mi piaceva proprio il fatto di non avere le cerniere e quindi si potevano mettere e levare tranquillamente, hanno questa parte in elastico, in tessuto elastico che si apre, appunto vi permette di inserire il piede. All'interno sono leopardate e io ho preso il 39 e niente. Questo è il primo paio di scarpe e vi assicuro che sono comodissime, comodissime. L'altro paio di scarpe è questo, in questa bellissima scatola, cioè già la scatola è bella di per sé, cioè come si fa, non dire che questa scatola è bellissima. Sempre il 39 e questo qui l'ho pagato da 29,90-14,95 e vi dico anche che questa marca qui che è Miss Globo si trova anche su Instagram qui e c'è anche il sito internet se vi interessa acquistarle e se non avete Globo dalle vostre parti. Ma ora vi faccio vedere questa bellissima meraviglia di scarpe, 3, 2, 1, sono stupenderime, stupende. Io le cercavo da tantissimo le décolleté fatte in questo modo, queste sono in vera pelle, hanno la suola rossa, come piacciono a me, a me piacciono tantissimo le scarpe con la suola rossa. Il tacco è fino, però è basso, non è altissimo, penso che sia un 10 cm, 10 cm, sì credo di sì, però mi piacevano, cioè sono comodissime anche con il tacco fino in questo modo, veramente veramente comode e sono fatte in questo modo, la forma è la classica décolleté praticamente, però appunto è in questa miss particolare animalier che io cercavo da tantissimo tempo, o come dice mia figlia, opardata. E quindi niente, le sto adorando, cioè non vedo l'ora di indossarle, non vedo l'ora di indossarle perché, cioè veramente, le sto amando, amando da troppo troppo tempo per averle trovate, le ho trovate adesso e sono felicissima, infatti quando le ho acquistate, Samuele neanche mi ha detto no, non le prendere, fanno schifo, oppure ma che ce le fanno a trovare io le scarpe col tacco, cioè mi ha proprio guardato, ha visto, avevo gli occhi a cuoricino tipo spank, tipo allo spank e mi ha detto ok prendile perché, cioè se no non te se legge, e quindi niente, queste sono il mio amore per la vita. E queste sono le scarpe che ho acquistato da Globo, vi faccio anche vedere quello che ho acquistato da Acqua e Sapone, visto che mi ci trovavo ieri e ho acquistato anche un po' di cosine da Acqua e Sapone che erano in offerta, così almeno se vi interessano potete andare ad acquistarle anche voi. È tutto in questo mega bustone e adesso piano piano ve li mostro, non li ho voluti mettere a posto proprio per farvi il video e poi proprio per farvi il video. Allora, levando gli assorbenti, che tanto siamo tutte donne e nessuno si scandalizza. Allora, ho preso, aspettate che qui se no è un casino, non so dove poggiare la busta, va bene, la poggio qua. Allora, ho preso dischetti, questi qui surprise, della linea surprise, ho preso sia quelli piccolini che quelli grandi e mi sembra costassero, scusate, dove è lo scoltrino? Eccolo. Allora, questi dischetti qui venivano 99 centesimi l'uno, che, voglio dire, per 100 dischetti e 40 dischetti questi grandi va più che bene. L'unica cosa che non mi sono accorta è che non hanno la cucitura nel bordo e questo già mi preoccupa, però a 99 centesimi chi se ne frega, cioè mi ci devo struccare e starò un po' più attenta rispetto a quello che faccio di solito, quindi 99 centesimi l'uno. Poi, ho preso una crema della Cleanians, le creme della Cleanians viso erano tutte, tutte, tutte in offerta. Questa mi ricordo di averla pagata 3,49 euro ed ho preso questa qui, che è quella per pelli normali e miste, texture non grassa, con minerali e acqua di tè bianco. Ho acquistato questa perché mi sta terminando quella alla rosa moscheta di Provenzali, mi sembra, dei Provenzali e visto che io con Cleanians mi sono sempre trovata bene, ho deciso di acquistare questa e appunto per pelli normali e miste perché io ho praticamente la zona T che se non l'opacizzo mi diventa untuosa e quindi, madonna che schifo, e quindi niente, e quindi ho preso questa qui, però vi ripeto, ce n'erano di diverse tipologie e tutte, tutte quante in offerta. Poi, come ha spoilerato mia figlia, nel vlog ho acquistato il Mentadent, io utilizzo questo qui, il White System, e questi qui anche erano a 99 centesimi l'uno e li ho voluti prendere perché di solito questi costano molto di più e io utilizzo praticamente solo questi qui della Mentadent oppure uso il Blanks, comunque quelli sbiancanti, o la Z, quello che fa la pubblicità Shakira. Poi, Samuele ha preso il Biorepair, protezione gengive perché lui, cioè, solo questo praticamente, quello per le gengive perché non riesce a stare senza, e questo qui è costato 3,49 euro, lui usa questo qui quindi benissimo. Poi, ho preso, sempre a 99 centesimi, sì, ho preso questo qui, allora questo qui è un sapone liquido al muschio bianco e fiori di cotone, di questa linea che è Affinity Care, io ne ho sentito parlare bene per quanto riguarda il bagno schiuma, e ho visto che mi serviva un sapone per le mani ed era a 99 centesimi, l'ho voluto acquistare, lo voglio provare, perché, insomma, se il bagno schiuma è buono, vediamo se è buono anche questo, e questo, se potete notare, è senza parabeni, senza siliconi, senza schifezze varie, sono scritte qui sotto. E, niente, e questo sono 500 ml di prodotto, che, voglio dire, non è male per un prodotto che costa 99 centesimi. Allo stesso, della stessa linea, ho preso, che è sempre, che è questa qui, Affinity Care, ho preso il sapone intimo alla malva e camomilla, lenitivo. Io, per i saponi intimi, prendo sempre i saponi intimi lenitivi, diciamo, quindi quelli con la camomilla, e, anche perché, anche perché li usa anche Aurora, e lei spesso si arrossa, e quindi voglio prendere questo. Questo sono 300 ml, con scadenza 12 mesi, e, niente, lo proverò e vi dirò, sempre 99 centesimi. E, anche a 99 centesimi, ho preso il famoso bagno schiuma, che è stato recensito benissimo, questo qui ha la mora e muschio, e sono 750 ml, che, voglio dire, per 99 centesimi, 750 ml di prodotto è ottimo, in più, senza le schifezzine all'interno, quindi benvenga, benvenga, Affinity Care, se mi piaci, te li compro. Detto proprio, detto proprio, semplicemente. E, niente, c'era solamente questa profumazione, e non so se fanno solo questa di profumazione, o se ne fanno altre, io non l'avevo mai visto, sono sincera, è la prima volta che lo vedo, e, però, il sapore della mora, l'odore della mora mi piace, e quindi lo proverò, e vi farò sapere. Poi, comunque, è un formato bello grosso, quello familiare, che, insomma, a noi non dispiace, assolutamente, quindi, bene così. Gli ultimi due prodotti, sono due prodotti per la casa, che sono, penso, una delle cose più ricercate all'interno di una casa super lussuose, sono questi, i sacchi della mondezza, anche questi, no, questi non erano a 99 centesimi, questi erano, un euro e 49, sono quelli della linea acqua e sapone proprio, e sono i 10 sacchi da condominio, noi ci mettiamo la plastica, e poi, ho preso il puli lavastoviglie, che sarebbe una sorta di cura lavastoviglie, e qui, ce ne sono all'interno, allora, non lo dice quanti ce ne sono, però, si sente che sono un pochine, ah, dovrebbero essere tre, ecco, due più una gratis, e sono al 100% naturale, questo è il motivo per cui le ho volute prendere, perché sono totalmente naturali, e, sì, le proverò, e vi farò sapere, elimina grasso e calcare da filtro e serpentina, e, sinceramente, questo qui, che costava, questo costava, un euro e 29, rispetto a quello del, a quello, cioè, diciamo, più famoso, di una marca famosa, che adesso non mi ricordo bene quale sia, però era una marca molto molto famosa, che costava praticamente più del doppio, ho detto, senti, fammi provare questo, per di più, è al 100% naturale, vuoi che funziona, lo rivengo a riprendere, a un euro e 29, cioè, mi pare ovvio, e quindi, eh, l'ho voluto acquistare, ce ne erano pochissime confezioni, e tutte abbastanza rotte, perché qui dietro si rompe facilmente, vedete, e quindi, ho voluto cercare di prendere quella più intonsa, e questo è tutto, io sto preparando, intanto, il video per San Valentino, quindi state sintonizzati, che presto avrete un look per San Valentino, e, però, non vorrei girarlo come al solito, come i soliti look, quindi, adesso scogiterò qualche cosina, e poi, vi dico subito, che presto ci sarà anche un altro video haul, perché ho fatto un ordine online da Stradivarius, perché da Stradivarius, udite, udite, ci sono ancora i saldi sul sito internet, gli ultimi saldi della stagione, e ci sono ancora delle belle cosine da donna, quindi, affrettatevi, donnine, andate subito, correte nel sito online di Stradivarius, e accattatevi il, come diceva quello, e, ok, finisco di fare la broccola, la scema, e ci vediamo al prossimo video, ciao!